Nessun blackout quest'inverno, ma il rischio vero è una interruzione volontaria dell'elettricità. Avete capito bene. Ministro dell'educazione nazionale, primo ministro e presidente francese parlano di rischi alti di interruzioni volontarie dell'elettricità. Approfondiamo insieme. Ciao a tutte le videomatrici e tutti i videoamatori di Senza Fissa di Mora e benvenuti in questo nuovo video. Potete stare tranquilli, questi sono i titoli dei giornali da almeno tre settimane. Potete stare tranquilli, la Francia non corre nessun rischio blackout. Non andate in panico, ve lo abbiamo detto più e più volte. Non c'è nessun rischio di blackout, ma sembra un film già visto. Prima no, no, no. E poi quello che succede è l'esatto contrario. E in più c'è qualche articolo di giornale che ci fa un po' pensare che cambieranno il nome della parola blackout. Cioè non si tratterà di blackout, ma si tratterà di interruzioni volontarie del servizio. Ripeto, interruzioni volontarie dell'elettricità. E vi invito a guardare questo mio video di qualche tempo fa, dove spiego molto bene perché non sono possibili interruzioni su larga scala. Cioè perché non si può lasciare una nazione intera al buio. Come funzionano gli scambi europei di energia. E quali sono gli stati più suscettibili, più fragili e quelli meno fragili. Guardati questo video se non l'hai ancora fatto. Continuiamo. Infatti andiamo a vedere questo sito internet, che è il sito di una televisione che è estremamente schierata col governo. La peggiore in assoluto. Per usare un termine di paragone, il Rete 4 di Emilio Fede, ai tempi in cui al governo c'era il Berlusconi. Primo, vero, originale Berlusconi. Eccolo qua il sito. BFM TV appunto. Coppura dell'elettricità. Poco a un della stage. Nel pa un blackout. Tagli all'elettricità. Perché un della stage, la parola della stage, dovrebbe dire un taglio in seguito o per colpa di un sovraccarico. Alla lettera sarebbe proprio un distaccamento dal carico. Nel pa un blackout. Non è un blackout. In questo trucco semantico, dove pur di non contraddire quello che è stato detto per mesi, si cambia letteralmente il significato alle parole o meglio, allo stesso avvenimento, allo stesso processo, si dà un altro nome. Quindi non si può dire che si tratta di blackout, ma si può dire che si tratta di della stage. L'articolo continuo poi, che è da tempo, vi stiamo dicendo che non ci sarà nessun rischio di blackout totale sulla Francia, bla bla bla. Ma in determinate circostanze, unicamente in caso di forte tensione sulla rete elettrica, potranno verificarsi dei tagli di corrente. Quindi volontari. Tutte queste cose sono annullabili fino all'ultimo momento. Cioè, vi possono dire tre giorni prima, guardate, che ci sarà la possibilità di avere dei tagli, poi all'ultimo momento rimangiarsi tutto. Ma la cosa che in questo articolo è un po' meno chiara è in che modo saranno annullati, perché saranno annullati. Si parla di buoni comportamenti. Si usa un termine in francese che è più o meno lo stesso che si usava per i cosiddetti gesti barriera, cioè i gesti barriera dell'epoca dei due anni precedenti, quindi contro il covid. Qui si uniscono a gesti di buon senso. È un sinonimo, è usare la stessa frequenza di comunicazione. Questo per dimostrarvi che questo è un discorso già affrontato da più mesi. Qui era il 29 settembre, in questo investing.com, parlava del fatto che il governo stava già envisagiant, cioè stava già prendendo in considerazione degli eventuali tagli al servizio elettrico, quindi tagli di corrente, e qui lo diceva già come imminenti, ed era appunto fine settembre. Qui parla che la federazione francese, appunto che raggruppa le grandi industrie prestatrici di servizi, che quindi fornitori di elettricità, stavano appunto mettendo in piano un servizio di rotazione per tagliare l'elettricità in fasce orarie. E parlava anche delle difficoltà che andava incontro a, diciamo, a questa tipologia di scenari che a quest'epoca qui, diciamo, era una creazione dei peggiori scenari possibili. Ma quello che ha sollevato il vero polverone è una circolare che è arrivata a tutti i prefetti. In Francia esistono le prefetture, come poi anche in Italia. Qui sono un po' più considerate, diciamo, sono più influenti perché anche negli ultimi due anni sono stati responsabilizzati i prefetti per prendere certe tipologie di decisioni per quello che riguardava le chiusure, i confinamenti, il coprifuoco e tutta questa tipologia di misure liberticide. Siccome il governo si voleva deresponsabilizzare, ha responsabilizzato, tra virgolette, i prefetti, quindi dando la colpa ai prefetti, praticamente, di quello che succedeva. E in una circolare inviata ai prefetti a fine novembre si inizia a parlare di tagli di corrente programmati, cioè programmati in fasce orarie. Le fasce orarie più indicate sono dalle 8 alle 13 o dalle 16 alle 20. Quello che ci è dato sapere, chi è trapelato da queste circolari che sono state distribuite è che verranno praticamente, assoggettate questi tagli, praticamente solo le famiglie e piccole ditte individuali. Chiaramente quello che non viene interessato sono gli ospedali, sono gli istituti, appunto le RSA, dove risiedono i più fragili. I fragili vanno sempre salvaguardati, quindi la cantilena è sempre la stessa. Viene menzionato in questo articolo, ad esempio, dell'Independent, l'utilizzo di EcoWatt. EcoWatt è un'applicazione che aiuterebbe a capire se voi siete o sarete soggetti a tagli dell'elettricità oppure no. Ma prima di arrivare al sito EcoWatt e a capire bene come funziona questa applicazione, quello che si comincia a capire è che l'applicazione sembra che dipenda anche dai comportamenti dei singoli. E qui già iniziamo a mangiare la foglia. Ma prima vale la pena soffermarsi su il caso della dichiarazione del ministro dell'educazione, che è questo personaggio qua, che riveste comunque questa posizione sinistroide anche del governo Macron quando si tratta di difesa delle minoranze, difesa religiosa delle minoranze, lasciando perdere questo discorso che non è il tema di questo video, ma in una sua dichiarazione il ministro dell'educazione nazionale conferma che ci potranno essere appunto dei della stagio, che la corrente praticamente può essere staccata da un momento all'altro quest'inverno e che, udite udite, nel caso in cui succeda non si terrà la lezione delle scuole alla mattina. Quindi le scuole rimarranno chiuse la mattina. Insomma, l'esperimento sociale continua, si tengono aperti gli ospedali ma non si reputa importante l'educazione. Cosa incredibile, cosa che ha veramente sollevato un bel polverone perché va anche detto che la Francia in Europa negli ultimi tre anni ha chiuso di meno le scuole. Le scuole erano aperte praticamente sempre, anche quando in tutto il resto d'Europa erano chiuse, questo va detto, ma in questo caso qui invece la narrazione è cambiata. E' cambiata, quindi il ministro dell'educazione reputa che nel caso in cui ci siano dei tagli dell'elettricità le scuole possano tranquillamente rimanere chiusi, i bambini a casa e rientrare il pomeriggio. Quindi sanno già anche più o meno quando taglieranno, di più c'è la mattina. Dice che, leggo quella sua dichiarazione, la traduco al volo, che i tagli di correnti programmati, quindi volontari, vanno a essere effettuati anche nelle scuole, anche in tutti gli stabilimenti scolari, dalle 8 alle 10, dalle 10 alle 12 e poi probabilmente la sera dalle 18 alle 20. Le prime due fasce orarie sono quelle che creeranno praticamente situazioni più critiche e che quindi, secondo lui, potranno avere delle conseguenze fino alla chiusura delle scuole alla mattina. Quindi gli allievi saranno invitati a rientrare dopo mezzogiorno a scuola. Allora, la cosa incredibile di tutto ciò è che non si fa quasi mai riferimento al fatto del perché vengano tagliate. Non considerare la causa, considerare solo gli effetti e la normalità, negli ultimi due anni, non viene mai, mai considerato, ho spiegato, il perché si facciano questi tagli. Perché la Francia non dovrebbe avere la corrente sufficiente. Si parla di tensioni nelle linee di corrente, ma nessuno spiega il perché. Al di là del fatto che al perché ci si potrebbe arrivare semplicemente guardando la tipologia di sanzioni che sono state fatte a chi ci forniva gas e altri combustibili con i quali noi producevamo, noi intendo tutta l'Europa produceva energia elettrica e scambiava nella gestione europea delle energie elettriche, scambiava con uno Stato o con l'altro energia elettrica, al di là di questa motivazione che non viene mai considerata, perché va sempre detto che nel capitalismo il capitalista non ha mai la colpa, ciò che è sbagliata è la realtà, il capitalista non sbaglia. Al di là di questo, la volontarietà di tagliare l'energia elettrica, quindi di fare dei blackout piccoli, strutturati, localizzati nel territorio, è super chiara, è ben chiaro che lo vogliono fare, il perché non interessa nessuno spiegarlo, chiaramente i giornalisti non esistono, quindi non c'è nessuno che fa domande a queste persone, ma la cosa veramente più interessante di tutti è guardare l'applicazione, perché nell'applicazione c'è la creazione del problema, cioè la risposta a questo perché è dentro l'applicazione e spiega molte cose. Ecco qua EcoWatt, o EcoWatt come volete voi, come volete pronunciarla, che ci dà subito la spiegazione al tutto, nonostante dove venga accennato in altri casi la motivazione per cui si dovrebbero fare i blackout, si parla della incapacità degli stati europei di scambiarci, di garantire una quantità di energia elettrica negli scambi, ad esempio tra Francia e Spagna, nel caso della Francia, o tra Francia e Italia, nel caso soprattutto dell'Italia, questi scambi che sembrano non essere assolutamente garantiti in nessun modo passano totalmente in secondo piano e leggiamo dall'applicazione EcoWatt, il vostro meteo dell'elettricità per una consumazione responsabile. Quindi mette insieme in un cocktail semantico, degno del più grande prestigio medirizzazione di Sylvan di altri tempi, si mette insieme il meteo, l'elettricità e la consumazione responsabile, cose che insieme non hanno assolutamente nulla a che vedere. Infatti il meteo non interagisce in nessun modo con la distribuzione di elettricità, infatti un fulmine può causare un crollo di un palo, ma si sta parlando a livello forse di un quartiere, forse neanche il quartiere stesso, forse qualche isolato di casa può rimanere vittima, diciamo, di un fulmine o di un evento atmosferico. Nello stesso tempo la consumazione responsabile, o il consumo, scusate, responsabile dell'energia elettrica non influisce certamente sulla capacità di distribuzione dell'energia stessa. Ma vediamo nello specifico come funziona questa tabella. La tabella funziona che vi mostrerebbe nelle prossime 24 ore se esiste la possibilità nella vostra zona che vengano attuati dei tagli. In questo caso oggi è mercoledì 7 dicembre, quando registro questo video vedete che nelle prossime 24 ore non è previsto niente. Una cosa che è molto interessante è che anche qui vengono menzionate queste fasce orarie, c'è da 8 a 13, da 18 e 20 e qui in fondo c'è la risposta a tutte le domande. Cioè, semaforo verde non c'è allerta, semaforo arancione il sistema elettrico è sotto tensione e qui gli ecogesti sono benvenuti. Quindi i vostri comportamenti influiranno sul consumo di elettricità. Come viene sdoganato in Francia che mettersi una mascherina è vivamente consigliato, fortemente consigliato, allo stesso modo un certo comportamento ecologico è consigliato, non potendovi controllare ancora e non potendovi obbligare, subentra il recatto. Il recatto è nel semaforo rosso, cioè il sistema elettrico è molto sotto tensione, i tagli di corrente sono inevitabili, udite udite, se il consumo di elettricità non diminuisce e scorrendo un po' più in basso ecco come potete avere la soluzione a tutti i problemi. Il primo di tutti è quello che abbiamo ascoltato per mesi, cioè abbassare la temperatura del riscaldamento, quindi state al freddo. La seconda è quella di spegnere le lampade diciamo non necessarie, quindi mangiare a lume di candela. Poi viene accennato qualcosa che è stato anche qui molto nel dibattito che ho visto, che poi viene anche un po' applicato, nel senso di spegnere le illuminazioni stradali in certi orari e per la prima volta viene anche pensato al fatto dei pannelli pubblicitari. Poi viene consigliato di usare gli elettrodomestici in fasce orari che non siano quelle nominate prima e in ultimo evitate di mangiare piatti che vengano cucinati per lungo tempo. Bene, secondo quello che ci raccontano, questa EcoWatt è già stata scaricata da diversi milioni di persone, quello che io invece vi consiglio se residete in Francia di non scaricarla assolutamente, non partecipare è il primo passo. Il mio video di oggi è un avvertimento perché, secondo la mia modestissima opinione, secondo quello che ho visto negli ultimi tre anni, quasi tutto quello che si è realizzato in Francia, ma anche in altre parti, quindi in Europa in generale, l'Italia purtroppo ha fatto copia e incolla del peggio, soprattutto per quello che riguarda un certo modello economico che vuole capovolgere il paradigma vigente adesso e che è facilmente riconducibile alle politiche economiche, monetarie e sociali, a volte alla vera e propria ingegneria sociale, riconducibile al forum di Davos, al clan Klaus Schwab e amichetti e tutti i gentili carnefici delle democrazie europee. Per questo, con questo video, vi voglio mettere in guardia, nell'eventualità che arrivi una applicazione similare a questa EcoWatt, un insieme di leggi, di misure, di articoli di giornale che si inizia a dibattere su possibili tagli dell'energia elettrica, bene, state molto attenti. Se volete qualche informazione in più sul Great Reset, su come sopravvivere al Great Reset, siete nel canale giusto. Se volete l'opinione di tante persone diverse, guardate, spulciate nei video che escono, soprattutto in questo periodo, quasi settimanalmente, di pensatori liberi che invito su questo canale a dibattere sul sistema messo in piedi dal Great Reset, ma soprattutto sulle alternative, su come possiamo reagire, su cosa si deve fare. È sempre più necessario capire, identificare questi attacchi alle nostre libertà individuali perché purtroppo sono irreversibili in molti casi. Scaricare un'applicazione sembra una banalità, ma di dietro c'è nascosto un sistema che non solo prevede di utilizzare tutti i vostri dati in vostro possesso, i vostri consumi, il consumo di energia che avete a casa vostra. Non solo lo diamo in pasto ai grandi della Silicon Valley, ma anche ai governi singoli che fanno ciò che ne vogliono e soprattutto che li usano contro di noi per ricattarci, obbligandoci a dei comportamenti che, anche se alla base possono essere condivisibili, anche se alla base hanno qualcosa di logico e di sensato, vengono trasformati in obblighi, in veri e propri crediti sociali. Spero che questo video vi sia interessato, vi invito sempre a mettere un pollicione in su, a condividerlo sui vostri social, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se volete potete anche sostenermi con i link che trovate in descrizione di ogni video. Grazie a tutti e alla prossima! Grazie a tutti e alla prossima!